28 scatti selezionati in 8 regioni europee per celebrare un lavoro millenario e pieno di difficoltà, quale è quello del pescatore. Il tutto nella mostra fotografica Genti di mare, iniziativa della regione Abruzzo, fortemente voluta dall'assessore alla pesca Emanuele Imprudente attraverso il servizio sviluppo locale ed economia ittica. La foto vincitrice per la nostra regione pescatori di sole di Patrizia Muscente. Non è un caso che a Pescara la mostra nell'allestimento curato dalla Fondazione Genti di Abruzzo arrivi proprio nei giorni della festa di Santa Andrea, tanto sentita dalla marineria e dall'intera città. Questa è, mi ha voluto con forza all'interno di un progetto internazionale Interreg che vede la partecipazione dell'Italia con altri 8 paesi europei, per l'Italia c'è l'Abruzzo. Questa mostra a livello internazionale rappresenta un omaggio, un riconoscimento a un lavoro millenario che è quello dei pescatori. Un omaggio a un lavoro complesso, articolato, difficile. È un segno di vicinanza e anche di sostegno in termini complessivi. Un settore che in questo momento ha una forte crisi e criticità legate all'allavamento dell'energia, la regione Abruzzo c'è su questo settore. Anche perché stiamo contribuendo in maniera importante a quella che è l'evoluzione della marineria complessiva abruzzese, ma soprattutto di Pescara con dei bandi del FEM che hanno visto finanziare questo porto. La mostra resterà aperta al flag costa di Pescara nei giorni 29, 30 e 31 luglio, dalle ore 18 alla mezzanotte, dal primo al 7 agosto, dalle 18 alle 20. Le foto saranno poi esposte anche a Francavili e a Giulianova nei mesi di agosto e settembre. Il sindaco di Pescara Carlo Masci. Pescara è una città di mare, una città che vive col mare, è una città che ha un legame fortissimo col mare e con la gente di mare, perché Pescara è nata con i marinai e noi questo vogliamo valorizzarlo all'interno del Museo Ittico che stiamo realizzando e che sarà pronto e inaugurato fra qualche mese, andremo ad inserire proprio una sezione dedicata alle gente di mare perché noi vogliamo valorizzare quella che è la vita del mare perché Pescara è il mare.